Ti sto bruciando le chiappe Eppure con la faccia terribile Cos'hai provato a fare? Ti sto mettendo fuoco perché sei una strega Sei malvagia Guardami un attimo negli occhi Ti sto guardando Li vuoi minerali sciolti? Li vuoi lingotti? Allora obbedisci e stai zitto Perché altrimenti tu te ne rimani in questa casa di legno E io mi faccio la casa di mattoni Mattoni senza di te Visto che con la coltivazione abbiamo fallito miseramente Ci siamo dedicati all'arredamento E ragazzi come va? Io sono Feri Niki Io sono Stef e che si giochiamo a? Ecco E siamo tornati nella nostra bellissima casettina E abbiamo tantissime sorprese per voi da farvi vedere Esattamente dobbiamo essere sinceri Stamattina abbiamo provato a registrare il video Non ci abbiamo capito nulla con alcune cose Quindi il video è andato malissimo Però ormai le cose sono fatte Quindi facciamo finta che sia tutto fatta apposta Tutta una sorpresa Praticamente abbiamo craftato diverse cose davvero fantastiche per la casa Quindi abbiamo reso la casa molto 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 più carina Dato che con la coltivazione siamo davvero terribili Quindi adesso vi facciamo un mini tour della casa Per quanto sia minuscola e non c'è molto tour da fare Un mini tour di 10 secondi Ok siete pronti? Olè! È già finito il tour Però guardate con te cosa è fantastica Allora le sedie con il tavolino Poi qui un tavolino dove appoggiare tutti gli attrezzi che abbiamo Una bellissima libreria dove leggere i libri che tanto non leggiamo mai Poi qua abbiamo creato un nuovo tavolo che è quello per il carpentry Che sarebbe Quindi che ci ha permesso di costruire tutto l'arrodamento per la casa Esatto tutto quello che avete visto l'abbiamo costruito tramite questo E la cosa forse più bella che ancora non avete visto è che abbiamo le finestre Non tutte ma ce le abbiamo Tipo qua entra ancora un po' di freschetto Vedi qua purtroppo Piano piano E poi ovviamente abbiamo anche un'altra cosa importante Ah la porta La porta E ti stavi dimenticando? Sì me lo stavo uscendo e me l'ho dimenticato di farla notare la porta scusami Devo dire che è bruttino il soffitto l'abbiamo sperimentato non siamo soddisfatti Però c'è un altro che possiamo fare ci serve fare qualche progresso ancora per poterlo fare Quindi con calma cercheremo di fare un super tetto Quindi per ora ci accontentiamo di quello più brutto Facciamo tutti finta che sia bello quindi adesso lo guardiamo e facciamo Wow che bel tetto Che bravi steppe e ferinichi che hanno fatto un tetto così magnifico Sembra la villa di Maradona Cioè guarda è bellissimo vorrei vivere qua vorrei diventare ricco per avere una casa uguale a questo Probabilmente darò il progetto all'architetto tale quale Assolutamente Allora bando alle ciance gli obiettivi di oggi quali sono Il primo è provare a piantare gli alberi Perché abbiamo scoperto che quelli che abbiamo provato a piantare nello scorso episodio non erano alberi E io te lo dicevo e non mi hai ascoltato Non è vero quindi in questo episodio cerchiamo di piantare qualche albero così ci sentiamo meno in colpa quando ne tagliamo altri Dopodiché cerchiamo di portare avanti un pochettino il Stavo facendo nulla ti sto ascoltando Il prendere i diciamo le rocce i minerali e questo genere di cose Sì Perché inizia a servirci anche quello e in particolare dobbiamo imparare a diciamo creare i lingotti Quello che vogliamo fare quindi è lo smiting skill book Se vedete costa 40 di roccia e 20 di ferro Costa davvero tanto ci mette i turi a 30 minuti a craftarsi Quindi muoviamoci facciamolo subito così almeno per la seconda parte del video possiamo vedere un po' cosa ci permette di fare Allora non ci manca molto perché le 40 di pietra le ho già prese sono stata bravissima Ok e le avete depositate io non le ho viste Qui in questa cesta allora non mi interrompere per favore stavo facendo una presentazione fighissima e mi ha interrotto No l'ho rovinata Calma si le rovinate se le rifaccio da capo E ridico tutte le cose uguali ok Ok però vanno in un'altra stanza Stavo dicendo 14 di iron ore che è molto molto raro perché di solito io lo trovo tipo pezzettini da dove poi non ne trovo più Invece ho trovato un posto che ne ha davvero tanto quindi secondo me devi essere molto molto fortunato Brava Ho girato metà mondo non è stato semplice devi stare qua Metà mondo siamo arrivati No però io non lo sapevo ho fatto il giro dall'altra parte Ah ok va bene Mi sono resa conto che ero dietro casa E allora sei tu imbranata non è che è raro Va bene tu lo sapevi c'era questo dietro questa cosa Certo Solo perché te l'ho fatto vedere io Era arrivata una volpe e mi aveva detto Ehi Steph qua c'è del ferro quando vai vieni Ho fatto ok grazie volpe Vieni Muoviti Arrivo Oggi ti uccido Allora ho già preparato l'ingresso guarda penso che sia una sorta di miniera Guarda Guarda quanto ce n'è tantissimo Ah questo è ferro? Sì questo è scuro Per di più voglio far vedere una cosa Io non lo posso rompere Esatto lo posso fare solo io Perché bisogna portare il mining più in alto perché il ferro appunto è parecchio pregiato come minerale Quindi deve per forza farlo ferrinichi io le posso solo dare una mano Facciamo una cosa siccome stiamo utilizzando tutta la pietra e stiamo comunque utilizzando tutto il ferro tu prendi dieci di ferro e io dieci di pietra Ok? Ok Ok ci sta Va spiegata anche una cosa Questa cesta è qui perché praticamente se noi le cose le depositiamo nella cesta rispetto a tenerle in mano possiamo arrivare fino a dieci e mettercele nel carrying Altrimenti ci fa prendere una sola cosa alla volta Cioè pensate 40 di pietra una alla volta Avanti e indietro Non avremmo finito mai nella vita assolutamente Quindi la cesta è per questo motivo qua dopodiché utilizziamo il martello e la rimettiamo a casa Quindi è proprio una cosa super comoda davvero fighissima E poi l'altra cosa che abbiamo scoperto carinissima E' che noi prendiamo appunto un materiale facciamo tasto destro e senza aprirlo lo depositiamo dentro Dieci di pietra dieci di ferro stiamo pronti torniamo a casa portiamo tutto E mettiamo a creare quel libro da 30 minuti Ma la cesta la lasciamo qua? Sì La riprendiamo dopo dai Anche perché questa c'è importante conservarla che non è proprio economica da costruire Ma vabbè dieci di legna secondo me conviene lasciarla lì perché almeno non ci dimentichiamo mai la posizione di quella minima E' una minera che ha ancora tanto da offrire Tanto comunque penso che se ci serviranno minera ritorniamo sempre lì Quindi secondo me conviene lasciarla lì come investimento per minare appunto Per il futuro Per il futuro perché tanto ce ne serviranno Tanti altri e non c'è bisogno che continui Faceva ridere la prima volta Era bellissimo Tu continui sempre Era bellissimo Messo a fare finalmente Messo a fare E noi aspettiamo 30 minuti Eh 30 minuti sono un po' tostio Allora cosa vuoi fare in questi 30 minuti? Guardarci Facciamo un castello di sabbia? Sì Sì Andiamo a farlo davvero eh Dai Sicura Vabbè andiamo Lo potremmo fare Certo Non mi tentare ok? Non mi tentare Adesso io lo faccio Allora dai seriamente Che facciamo nel mentre? Allora Allora Possiamo Ti do un po' di alternative No Aspetta ti devo guardare negli occhi per dirtela Ok Aspetta ok Stai attento perché ho una pala in mano Eh anche io ho la pala in mano Ti potrei sotterrare da qualche parte Dicevo andiamo a cacciare un pochettino Ok Specialmente perché io ho abbastanza fame Proposta interessante ma che non accetto Poi Piantiamo gli alberi Piantiamo gli alberi Ci proviamo Abbiamo un'altra cosa importante che è il Wayne Rick Table Ah Hashtag Wayne Rick Table Come lo dico io non come scritto Wayne Rick Table ok? Vedrò Leggerò il peggio hashtag Guarda Leggerò di tutti i colori Sarà molto divertente Esatto Praticamente si a cosa serve? Aham A creare quel trainetto che dicevamo per la legna Ok perfetto Il discorso però è che abbiamo due tavoli in questa stanza E due tavoli in questa stanza Quindi dobbiamo creare una nuova stanza della nostra bellissima casetta Oh no Ok E questo è un problema È un problema perché Secondo me ci tocca Cioè ci conviene togliere il campo da grano Che rifaremo in futuro Perché tanto per ora Soprattutto perché inutile Non ne siamo in grado Andiamo a provare a piantare gli alberi Così magari ci togliamo totalmente dalla coscienza Questi polveri alberi Che totalmente ogni volta distruggiamo Proviamo giusto uno Almeno se muore Poi non facciamo un disastro Esatto Allo stesso tempo creiamo una nuova cesta Andiamo a tagliare gli alberi Io metto la legna in quella cesta E la porti via insieme a me Perché? Perché praticamente Io ho messo dei punti in survival Sulla legna Quando taglio un pezzo di legna E la raccolgo Mi da due pezzi di legna bonus Per ogni volta Ok Quindi praticamente da un albero Che di solito ci dava 20 di legna E io riesco a prenderne 40-50 Di conseguenza Sfruttiamo al pieno questa cosa Quindi crea una cesta E tu prendi i semi E se ricordo bene I semi li ho lasciati in questo forziere No Li ho lasciati nel workbench Ok Quindi qua dovresti trovare Due semi di tipo Caesar Qualcosa del genere Allora vediamo Sì Caesar Caesar Ok Invece a me servono Dove siete? Ah Caesar Seed Eccoli 10 di legna E mi crea uno storage Ne abbiamo solo due? Sì Sono rarissimi Eh ho notato Hanno il 10% di possibilità Di droppare dalle foglie degli alberi Eh già Non è per nulla semplice È tutto pronto? La cesta l'ho creata Siamo prontissimi ad andare E vedere come va Siamo al 52esimo giorno Di questo mondo Ormai viviamo qua da un'eternità e mezzo Assolutamente sì Una roba incredibile E me li sento tutti questi 50 giorni Anche io Anche io Sai che io vorrei provare a piantarlo qua Perché qui di fatto non ce ne sono E teoricamente dovrebbe stare un po' meglio Che dici? Sì Dove è levato l'erba? Non vedo Non si vede nulla perché poi la corci Non è che la leghi Eh lo so Qua Qui Trova a rastrellare qua dove sto saltellando Ok Andato Ok prova a piantare Vado Sì Io mi sento malissimo Ok Ma è già morto? A me sembra già morto Perché è tutto nero Aspetta aspetta Ho il Sì usalo Non so come chiamarlo La gege che mi dice Dice che se è già morto Non mettiamo più mano delle piante Per almeno metà Metà serie Metà serie Perché non è possibile No non sembra che sia morto Ok Però Dice che è pieno Troppa roba? No questa volta non mi dice nulla Ok Ok però dice Overall Growth Growth Di crescita Rate Zero per cento Forse perché ancora non è cresciuto Beh è appena nato Poveretto L'unica cosa in rosso Ok allora Nelli skill points Dovremmo avere qualcosa da mettere su survival Per fare in modo tale Che gli alberi ti crescano più in fretta L'ho trovato io L'ho trovato io L'ho trovato io Vedi questo qua Ferming speed aumenta tutto Del trenta per cento Quanto cresce Vai Metti questi cinque punti Se poi non spreco ti uccide Dimmi quanto costa quello dopo Nove E l'aumenta del cinquantasette per cento Andiamo Vai Mettila Ne ho tanti Il prossimo ventinove Quindi non lo posso fare Ok Ok Lasciamo così A questo punto proviamo a piantarne anche un altro Un po' più lontano Ok Olè Ok Speriamo bene Io non sono troppo fiduciosa dopo la delusione Dello scorso episodio Quindi diciamo che non sono proprio entusiasta In questo momento Per vedere se ce la facciamo Perché Come su minecraft all'inizio Perché molti consolini probabilmente non ne hanno avuto l'occasione Però Soprattutto io Mi è capitata la possibilità di giocare a minecraft Quando ancora non era molto conosciuto Al tempo Sai che non si sapeva neanche No lo so Cosa tutto potevi craftare Perché non essendoci ovviamente Le wiki e tutte queste cose Sì ma nel gioco non esiste una lista Ok Certo Quindi c'erano i dubbi Ma si è scoperto tutto Ma non è che c'è altro Ma questo come si crafta Ma questo come si tiene Era una figata E si scopriva tutto E penso che anche questo sarà Un po' lo stesso Ed è molto molto bella come cosa Ci siamo quasi eh Però hai fatto la porta troppo grande La vuoi da due Qua dico Sì sì ho fatto apposta E ci costa parecchio No vabbè la volevo lasciare aperta così Senza porta Vabbè vediamo Forse sì Forse fa Forse fa Adesso vediamo un pochettino Non so se ce la conta come stanza Lo contavo Ce li hai presenti Quei passaggi ad arco Sì Che ci sono nelle case Che non hanno le porte Per collegare due ambienti Eh ho capito L'ho pensato così Ho capito cosa hai pensato Ma se il gioco poi Non la reputa una stanza Vabbè La chiudiamo un pochettino E la facciamo a moco di porta Esatto Tanto qua guarda La porta non ce l'abbiamo Eppure la considera come stanza Infatti però è da uno Quindi bisogna vedere che seconda due funziona Allora se non me la conta da due Spascio tutta la casa La brucia Prendi la legna Costruisci e te zitta Per favore Che abbiamo quasi finito Dov'è l'altra? Nell'altro tavolino? Sì in quella di Carpentry Allora nel mentre Il nostro bel libro Com'è messo? L'abbiamo fermato A 18 secondi dalla fine Che coincidenza Perché in questo momento Non risulta più una stanza Perché appunto Qua è collegato E c'è il soffito rotto Capito? Ah ok Ok vabbè È molto molto bellina Forse un po' Troppo rettangolare Deve aiutare Però se andiamo anche verso l'alto Per il risulta bello Che è successo? Mi sono incastrata Dove? Dove? Dall'altra parte Dove? Stavo a mettere il soffito Che manca lì Lì Arrivo Grazie No non si può mettere Allora pazienza Perché? Vedi che manca Un pezzo di soffitto Qui su scusami Io volevo mettere quello No vedi? Aiutami No ho tolto un altro pezzo Da dove? Oddio Da qua ma come ho fatto? Ok Non lo so Vabbè Vabbè lascialo bucato cara Ok Sì Ha finito Quindi considera come una stanza Non lo faccio prima io Ah no Ce l'hai detto in privato Non lo so che ce l'ho io in privato Perché l'ho fatto io Fammi vedere Storage Eccolo Mettimelo anche a me Ok Lo metto qua Ti li puoi prendere da sola Esatto Grazie Allora Agricoltura Carpentry smiting Ok Sembra molto complicato Mi sono scelta la cosa più complicata Sì Sì Dopo l'agricoltura Mi hai scelto un'altra che secondo me No me l'hai data tu Io volevo solo fare carpentry Lo so Volevo solo costruire E invece quando l'ha preso Steph Mi spiace Felice costruendo Invece mi fa fare queste cose incredibili Comunque sì Guarda anche qua Che tu avevi fatto l'arco Vedi che l'ha tolto Quindi è sicuramente una cosa Che il gioco ci impone Esatto Non gli piacciono i miei archi No Mi spiace Allora Fammelo vedere E finalmente c'è un nuovo trip Allora Per creare il bloomeri Ci serve il kiln Per creare il kiln Ci serve il curry Questo qua Quarry Per creare il curry Ci serve Masonry Ok Per fare Un lingotto Ci vuole il bloomeri Per fare il bloomeri Ci vuole un kiln Per fare il kiln Ci vuole il curry Allora Non sto andando Nelle notte giuste Però non mi stai seguendo E non mi è piaciuta questa cosa Te lo dico Non so Era una canzone fantastica Super personalizzata Comunque Sì Allora Fammi riprendere un attimino mentalmente Dobbiamo Masonry Eccolo Trovato Sì lo sapevo In survival Vero o no No In research Non mi ricordo più Dove l'ho visto Altri dieci punti da spendere per te cara Ok Masonry Fatto C'è un problema Adesso ho imparato A fare il libro Se mi prendi in giro No Per fare il libro Ci vogliono Trenta di pietra E cinquanta assi di legno Yeee Però Sto impazzendo Però aspetta Ok Con Masonry Che ti permette di fare il curry Puoi fare Ok Senti un po' Perché questo ti piacerà Il vetro Eh Mi faccio una casa di vetro E rimango lì dentro Il vetro E pure i mattoni Eh i mattoni però sono belli Quindi dai Faccio una casa fighissima Ti ho dato una bella roba da fare Complicata Comunque mi sono rimasti solo cinque punti Quindi non posso imparare nient'altro Però oggi ho già dato A seppiciente Vieni a 19 ancora Quindi non è male Il discorso Adesso Aspetta C'è buio Ma io ho la soluzione anche al buio Lo sai? Con le Sì guarda No non con una candela Con una cosa che tu ancora non hai visto Hopla E vabbè E vabbè E il luccio fu Ti sta bruciando le chiappe Eppure con la faccia terribile Cosa stai provando a fare? Ti sto mettendo fuoco Perché sei una strega Cosa stai provando a fare? Sei malvagia Allora sono bravissima qui dentro Allora Guardami un attimo negli occhi Ti sto guardando Li vuoi minerali sciolti? Li vuoi lingotti? Allora obbedisci e stai zitto Perché altrimenti tu te ne rimani in questa casa di legno E io mi faccio la casa di mattoni Allora Mattoni senza di te Se mi minacci nuovamente No ti minaccio e come? L'unica cosa che vedrai di sciolto Non sono i mattoni E comprendimi Dato che io cucino cara Credo che capirei da sola cosa intendo Ascoltami E finalmente è pronto Il Wendrick Table Oggi con le canzoni stiamo esagerando Te lo dico Sì 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 Oggi esagerazione pura Allora Lo levo tipo qua Non mi rompere i scattoli Vediamo cosa si può fare Terribile Prima di tutto sto dicendo Che ci sono troppe cose in questa stanza Quindi avevo ragione che Che la tua porta terribile non funziona Era bellissima Ci piaceva a tutti Voglio dirti quello che qua possiamo fare Asfalto Ok Cioè iniziamo ad asfaltare il mondo Sì Strada in terra Strada in pietra Powered cart Che si fa con il combustion engine Ok 20 di lumber E 20 di gear Cioè roba totalmente elettronica Però una cosa che invece possiamo fare Il wood cart Costa soltanto 50 assi di legno Quindi soltanto 25 di legna E guarda cosa dice Che possiamo utilizzarlo nella strada Quindi dobbiamo fare la strada di terra? La strada di terra Esatto Tu fai la strada di terra E se tu passi nella strada di terra con questo Puoi appunto utilizzare questo carretto Che ti permette di trasportare tantissima legna E tantissimi minerali Eh l'avevo intuito perché è molto realistico Se pensi a tempi diciamo in cui l'agricoltura era molto rurale I carretti venivano trascinati nella terra pura Quindi facevano proprio i sentierini Quindi è giustissimo Bellissimo Figo Mi piace che rispecchi così tanto la realtà È davvero bello Molto immersiva questa cosa Davvero tanto Assolutamente E adesso però abbiamo bisogno di chiudere qua Vabbè Facciamo che lo facciamo tra un episodio e l'altro Che tanto non c'è nulla di interessante E ci tocca sempre andare a tagliare un albero Certo Tanto anche per costruire Dobbiamo a una cosa che dobbiamo giocare Esatto Quindi ci fermiamo così per questo video Nel prossimo video ci saranno tantissime cose Prima di tutto ci sarà Sto salutando i consolini Il tavolo Ciao Per creare i vestiti Creeremo questo carretto Cercheremo di fare le strade E vedremo soprattutto Se gli alberi Realmente crescono O se quello è stato un fallimento Quindi c'è Più di così Secondo me È impossibile Non vengono l'ora di registrare il prossimo Abbiamo pure teoricamente Il query da fare Se ti ricordi Per appunto Iniziare a fare mattoncini In vetro E piano piano arrivare a poter Appunto fare i lingotti Non mi ricordo più nulla In questo momento Ma so che devo fare delle cose Quindi l'importante è quello Io non ricordo neanche per cosa ci servono i lingotti No A cosa ci servivano? Perché stiamo facendo tutto questo? Perché dobbiamo avere dei lingotti qui? Non lo so Perché? Non lo so Non me lo ricordo Anche io Non sto scherzando Non mi ricordo Perché se succede così Se succedeci un like E se è la prima volta che ho veduto il nostro video Potete consigliare all'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Alla prossima Alla prossima Grazie per la visione!